E' un po' per presentare questa canzone che facciamo in modo per concludere al meglio questa segna che è stata per breitemente in Bergamasco. E' un po' per presentare questa canzone che facciamo in modo per concludere al meglio questa canzone. E' un po' per presentare questa canzone che facciamo in modo per concludere al meglio questa canzone. E' un po' per presentare questa canzone. E' un po' per presentare questa canzone. Grazie. 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 c'è uno mese risparmioso che vi ha telefonato da lei, lo dica, e dice, morta Marta, oh morta Marta, le rispondono, allora dovevano cinque parole, paga uguale, beh lì, quello non lo scriva, scriva, morta Marta, e lo vede lì, florido come noi altri cinquantenni, e dopo quattro d'età sono cento anni, Giovanni dentro Gigio, o roba del genere, perché questi signori si fanno mettere via la foto per quando finiranno la nostra pagina, e poi stai dicendo, ma papà che si è raccorsi, perché, e si è rendita a casa dei soldati, no, l'ho messo in pietra che si dirà, però l'ero il pelò, è un circolo impressionante, e di onde mi ha posso una grignadina, seate c'era i cari trapassati, perché il ritrasse, la versione al cinquantina, l'aveva due due, che ha fatto cento anni suonare, e in questo caso non mi la accompagna, o del suo annuncio, che era il suo paese, cinetto sempre boni dell'erogna, è andato finalmente in paradiso, e mangia un paio di orizio della, e sta pieni, e la polenta e va a calare, ma è sta pieni, o quando si arrepenta, o quando a dirne, sente sticamente, ma i vecchi unirà, ma donna santa, te la bocca rocca, la garlati di Barcellente, che ti insegnava, a chi non era l'avresto, a volte entravi giù con la chitarra, con la barna, con il genere, che era tuo caffè, che è mia sorella, perché sono ben in questa situazione, perché sai quanto succederà, e la moral dell'inchiesta infinitì, le compagnie tant'era che mi dì, da 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 Grazie.